musica 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 f10 di quello degli altri scusati per chi mi guardate tranne regas che non ha gli occhi givino con ora ciao a tutti cosa basta dai tutti insieme ne auguriamo la puntata con questo fuoco d'artificio dai gian fai bello e facciolo vedere di giorno bello dai 3 2 1 eeeh no bella merda 8 euro ragazzo non è scoppiato adesso però c'è un bel guadiglia di poco dario ed un giorno fa perchè è scoppiato un mese fa ieri è scoppiato questo vomito di dirte capo stante civico potete andare a fare quello che cazzo mi fa allora ragazzi aspettare i gatti iniziamo a parlare abbiamo fatto abbiamo fatto il video che non passano a via abbiamo fatto la sua forza che c'è servita per fare la file sword che è una spada perchè io c'ho questo così che è una spada che è l'unica che può essere incantata con l'enchantment soul stealer che serve per per prendere più anime per riempire anime quelli che ti leggono per riempire le soul shard che le abbiamo fatte bruciando i diamanti con la corrupt densens che si fa bruciando la soul sand che diventava il dust si mette insieme al glowstone e diventa la corrupt densens si può bruciare qua dentro bruci il diamante e viene fuori il diamante merda sei noioso a parlare rega madonna hai visto? mi ha detto che mi ha fatto una brutta perchè io sono una persona seria no dai fastidio ecco buca pe tui e fine adesso dobbiamo andare nel nether a prendere un sacco di roba andiamo nel nether ah abbiamo fatto aspetta abbiamo fatto un paio di libri per andare direttamente alla fortezza e per andare nel nether perchè la fortezza non sanno cos'è hanno fatto un par di libri la fortezza non sanno cos'è giusto perchè l'abbiamo fatto quando non c'è andiamo nella fortezza andiamo nella fortezza l'ottima fortezza allora io invece mentre loro vanno a farci probabilmente uccidere a caso bene oh devo andarci anch'io nella fortezza faccio cose molto più interessanti per esempio ora vi faccio vedere mentre si costruisce sto bocchino qua eh però ne serve una dobbiamo prendere gli alberi dobbiamo trovare gli alberi e cioppare gli alberi eh non ho un accello cioppalato non ho neanche io tolancetta eh cioppalato tornate di là e ve la fate c'è che palle già fanne due che cazzo si deve cuocere io vi faccio vedere cosa ho fatto l'altro giorno oh non ho neanche una pala fammi neanche una pala avete fatto vedere la tomba del pigman poi una fetta di culo no? vabbè vengo a prenderla io la fetta di culo aspetta si io l'ho vista ah bravo orso al cinema avete visto è morto il pigman non si era visto in puntata che lì c'era un pigman si era incastrato un pigman oh dove sei? hai già fatto già? poi è uscito e tipo non so che cosa è stato io mi sono scarato di fare una cosa l'hanno brutta l'hanno di fare una cosa mi sono scarato di fare una cosa e ci abbiamo fatto una tomba che è carina è qua sotto che riposa in pace dove sono i materiali? poi qua di fianco io ho fatto la casa che dovevo fare che dovevo fare quella col boiler dentro è ancora un pelino indietro vuoi appala? perché non ho abbastanza di questi blocchi qua si e non ho ah e non ho abbastanza neanche di questi blocchi qua neri però sarà tutta nera qua sotto è tutta bianca lì sopra e qua ci sarà il boiler qua c'è già il boiler però devo ancora accenderlo e qua ci sarà le tre le due fornaci della railcraft perché questa ah no della railcraft per fare il creoso toil una qua e una qua e qua quella per fare lo steal e infatti i ragazzi e gli altri stanno andando lo steal I've got balls of steal stanno andando a prendere i magma green appunto per fare la dove cazzo si? la fornace che sono uscito di carne il più visto che questo qua va a cose quindi tipo se ci metto un coal qua dentro questo comincia a bruciare mi sta a sparare lo cecchino ma vedi è già consumato ne ho metto un altro è già consumato mi serve sapete cosa devono prendere? gli alberi rossi? di cose da bruciare quindi io farò adesso che ne ho visto proprio la sotto ah pochi death point beat bog ci sono le fabbriche buongiorno le farm di box si è scarato che dove fare una cosa della forestry per fare beat bog ho bisogno di uno beatbox? sei noioso Dario non è vero che sono noioso ho bisogno di due di queste qua eee beatbox Dario beat bog due stati machine e sei copper hack era un beatbox che non so come si fa in realtà col copper e la redstone mi picchiano ancora? no ok non mi picchiano ancora questo però lo devo fare non fare stronzate che finalmente ci sono calmati questo lo chiudo qua questo lo chiudo qua questo lo chiudo qua no c'è la sotto delle alberi rossi devo fare così perchè queste macchine di merda vedi che consumano l'energia anche quando sono sono fredde ci sono che non servono a niente sono che non servono a niente aspetta un attimo si sono che non servono a niente abbiamo della sand Dario ci metto il glass no l'ho già usata tutta hai messo della sand non mi serve la sand mangi la vai a prendere ma che cazzo vuoi? ma stai sito sei scemo Gian? sei scemo Gian? il copper eletro tube quindi mi serve il copper che ho già in mano no ne ho uno solo di copper guarda che bella Dario la mia fornace guarda che bella la mia fornace guarda che bella la mia fornace socia che bella la tua fornace che bella no proprio quello da qua non si scende scusa per un altipiano della madonna cosa 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 vai di qua di quando vai di qua guardalo soul glass e si può mettere in giro? si può mettere credo si in giro ma non lo fare perché mi serve oh pepistrello no no non l'ho neanche preso pepistrello 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 ahah ah pepistrello come no what it is chi è? devo fare è lo stronzo che vola soul work bench c'è lo stronzo che vola? dov'è la redstone vacca troia qui? è morto come hai fatto? c'è vabbè c'è un ci sono gli alberi rossi qui Gian vieni qui vieni qui aspetta accoppolo scheletta Gian la devi piantare di urlare si devi piantarla di urlare cazzo madonna cazzo madonna no cazzo madonna non è se mi sparo un altro è un'associazione no ha bisogno di un altro a delinquere gas per bruciarlo dove siete voi? commete allora sei copper e la cidiando tonnellate di gas poi allora questo oh ma non c'è cosa succede cosa succede qua? cosa sta succedendo? cosa sta succedendo? cosa succede? si sta scoppiando questa gi- spero sia solo grafica io sto prendendo degli alberi intanto la vedi tu? si io vado a prendere certo ma perchè hai fatto un- perchè nessuno dei due sta usando energia si sta riempiendo il tubo genio esplode poi visto che tu hai messo questa merda qua dentro che merda? a-a-a smeltare la tua super sandstone fa un se- un drop secondario che non può bruciare e quindi era dentro la powered furnace che la bloccava ma chi se ne fute? vero? se sei noioso merda ah volete delle noci? no ma ha poisonato allora? cheletron niga cosa? cheletron? cheletron niga ma ha poisonato ho bisogno del bronzer il seganello? muoio? muoio seganello muoio seganello si sei morto? no 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 fact ma presi in faccia siete morti due star di machine no 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 ma addio sa ma ucciso quel uno due tre e c'è un pit bog e l'altro pit bog e ragazzi siamo a cavallo però devi rompere da solo le allora il pit bog se non ricordo male c'ha un radius vieni qui zan che tu mi sembri un po' più affidabile di orso lo proviamo a mettere qua se io faccio guardi la minimappa no aspetta non mi ricordo un cazzo proviamo poi quel che succede succede ehm vedrò anche la minimappa ma non c'è in uno due tre poi qua no allora diciamo uno due tre quattro cinque poi sei ah no sette vado alla tua madre è tua madre proviamo qua proviamo com'è ahahah ancora ormai è un po' sicurale quelli ti attaccano non è che ti guarda ne basta io amato ma poi visto che io non ho ancora al pit Gianni vieni qui come funziona il pit come funziona prendo tutta la roba devo fare il bog earth come si fa il bog earth tieni tieni queste tre bottiglie vanno riempite con la roba che cade dagli alberi lo vado a prendere quello rosso allora quindi io lo devo fare e servono di ogni cosa diverso ma a me serve la sento oh c'è la mia roba lì sei fermo è bian sei io già io non farle verdi verdi lo già io ok vado a prendere quello rosso fa nero rossa e due nere ma mamma devo farlo devo fare i pit dammela dammi tutto è qui la tua roba ma vedi che c'è engine faccio un engine normale poi? mancavato tutto Gianni facciamo un engine normale facciamo un engine normale facciamo un engine normale però mi serve dai vai ancora l'iron di questo succede a non prepararsi le cose prima ho preso rosso poi vado a prendere due neri ancora l'elmo dov'è? l'elmo non lo so ce l'ho in testa io il mio elmo il tuo non lo so elmo elmo? elmo bagging elmo bagging anselmo scusa filanselmo si non c'è più niente no allora io non ho mai visto alberi neri però i miei poli li abbiamo piantati davanti a casa Gian ah ecco lì davanti alla casa del nero alberi neri oh guarda ha matto quello stronzo di merda papam 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 e infatti non c'è il glass pam pam pallante mamma pam 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 pallante ahahah ahahah si ma c'è una marea di pigment qua la merdea ehm ole lo stirling engine il buon vecchio stirling engine allora se io metto lo stirling engine qua tra l'altro credo proprio che ho trovato il tuo elmo cioè che poi era il mio anselmo era nel buco dammelo non mi ricordo il cazzo di come funzionano ste macchine rega faccio a cagare si mandaloni no il soul glass non lo usate per piacere il soul shard mettiamolo lo stirling engine qua dentro ci mettiamo una leva che sicuramente ma non ho un bottone perchè un bottone non una leva questo è nero quello viola che ci abbiamo impiantato davanti a casa nooo che palle c'è qualcuno che mi scrive su lo stato e rompi i coglioni il bottone prendo una leva due neri volevi si ne servono due neri tu dovresti averne uno rosso e due neri ci abbiamo leve non abbiamo lene oddio abbiamo vene si quelle lì palle cazzo mi servire da fare una chest per la merda a te a te a te io sto laggando però tu io no dove siete stronozi scarichi allora vediamo in to io sono tornata a casa sto facendo cose se ci metto coal dentro vedrai che funziona un bel po' già nella giù quindi un po' di funghi un po' di funghi coal dov'è che disastro che è sta casa e la puoi rifare quando vuoi eh non mi sembra che tu abbia voglia di farlo e ora non voglio come è la faccio io se vuoi c'ho gli albri viola qua li hai presi no ho preso l'altro questa no tanto non abbiamo girato pomodoro poi li piantiamo davanti a casa e usiamo quelli pomodoro bom vai brucia stirling engine torniamo dietro si si no allora adesso ci possiamo fare una cosa figa allora questa cosa sparano rompeteli gli alberi però poi dopo che hai preso la roba infatti non ti ho preso deve stare uno più in la perchè? spacca gli alberi quali? tutti quelli che trovo serve il legno a tutti? si ma poi devi però almeno ci avevo quasi preso poi devi anche rompere le foglie che ti danno i semi no c'è uno scherzo nigga no no aiutati quindi vieni qua e la leva qui non funziona e poi ci mettiamo di nuovo al coal dentro e questo partirà poi? e farà il buchino che vuole poi mentre sta facendo il nego facciamo del pit dan matala del bog del bog cosa? facciamo del bog che credo che sono un killer allora mi dico che qua c'è ok ma se noi ma io sono stronzo abbiamo la minimum stone abbiamo la minimum stone ragazzi che facciamo quindi? mi facciamo gli alberi mi serve per bruciare il dirt e farlo diventare prima cobblestone ok e poi grass e poi sand e con 48 di sand prendi qui due lì a sinistra si fa il bogger con dell'acqua 4 di dirt e 4 di sand il dirt ce l'abbiamo qui l'acqua ce l'abbiamo in un secondo devo paccare le foglie? … dirth 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 sento 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 eh certo è al contrario pulp 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 pedalo ecce lento cavamento che schifo stava sparando nella sua lingua capito niente ho messo lento cavamento della pt madre cos'è che hai detto? ho fatto 4 else allora questo metodo è molto fastidioso e molto lento quindi lo automatizzerò tipo lento violento c'è uno zombie umarel che sta sovrintendendo ai lavori umarel? dov'è l'umarel? fa vedere l'umarel? però mi ha dato un cervello di umarel un cervello di umarel e allora facendo questo bel buco quanto siamo? 10 a 1 per noi grande stiamo vincendo allora spacco tutto qua spacco tutto qua così aiuto questa macchina inutile che non capisce che c'è della roba anche sopra perchè il bong deve stare alla luce per macerare e diventare pt zan se torni qui ti do un obsidian sword pt si torno lì quana shine speed allora torniamo a casa zan quindi io credo che per questa serie limiterò ti è finita tu qua ciao a tutti ciao vediamo la prossima serie va bene limiterò l'utilizzo dei logistic pipe perchè ho visto che scoppia zan potrebbe essere un problema non so dove puoi tornare indietro ok zan vini qui inputano anche quelli che guardano anche voi prima casa zan quindi limiterò l'uso dei logistic pipe anche se sono molto comodi e cercherò di fare tipo con la roba della railcraft una gara facciamo una gara della red power che comunque è figo soprattutto le macchine nuove perchè questo qui non sta continuando a buccare gli occhi ti vanno più veloce bucca dritto allora io intanto comincio a già a a piazzare il bog qui tipo la carriera l'ho la carriera l'ho ci vuole dell'acqua vicino però se noi no ok niente bene adesso spegniamo tutto sto foco del cazzo se io gliela metto dentro però lui comincerà non mi serve che torni a casa e mi dai la tua bottiglietta viola babana detto questo io farò un'altra di queste merde qua che tra l'altro l'ho messa ma sono un pazzo l'ho messa stortissima vabbè vaffanculo questa qui è grande 3 3 più 4 più 4 ma l'hanno modificato del wood il wood lo metti dentro questa cesta questa qui era 3 più 4 era 3 più 3 è ottimo che figata perché c'era il coso di acqua al centro ma che cazzo è sta roba no ma mi stai prendendo per il culo tu i funghi Dario in casa ok però usala aspetta adesso ti devo dare un'altra cosa me lo farò me lo metterò a posto comincerò a costruire a fare del pit e nella prossima puntata probabilmente come prima cosa apri di porta per favore va bene prova a dare uccidere i mostri dovrebbe riempirsi di soul laner tienila di tenerla nella barra sotto vai ad uccidere qualche mostro ora vai corri ti devi caricare accenderemo lo steam boiler dopo aver acceso lo steam boiler a destra qui è una patacca rossa per fare la fornaciona della rake costruiremo questi fantastici industrial industrial vini fuori industrial steaming che hanno bisogno di steel bait scusa dammi tutto che si fa nella blast furnace dammi la spada e dammi con l'iron oppure anche con qualcos'altro in realtà small soul con tutta la roba di iron dovrebbe riempirsi in teoria iron tank wall o si riempie solo nel nether va bene si fa con l'iron perchè bellissimo sa che si riempie solo nel nether aspetta aspetta da andare nel nether aiuto creeper aiuto aiuto ooooo 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 ma che cazzo è ma perchè devi spawnare coglione ma cosa spawni cosa spawni a fare ma stai lì sotto ma stai lì faccia di merda NON SALIRE LE SCALE ma cosa fai non si parla non si parla Dario parla con i creeper ooooo io ho aperto la porta e chi è un creeper che apre le porte si perchè c'è il pulsante cazzo e che i tirannosauri no? mordo i veloci raptor i veloci raptor i veloci raptor va bene mi sono dimenticato completamente cosa stavo dicendo ho fatto un point blank della mia testa point blank aspetta do trovare un mostro un mostro che non sia un pigment ah si ok allora merda vacca troia perchè si è naccolato non mi ricordo più ah si regaz che vuoi un commercial steam engine che vuoi? eh dentro la blast furnace da 12 steel ingot e quindi? e quindi? e quindi il commercial steam engine è fatto da la cedda iron da 8 di iron commercial non è fatto di steel plate? il commercial steam engine è fatto di iron l'industrial steam engine è fatto di steel io ti ho appena detto prima non faccio i commercial steam engine perchè sarebbe uno spreco di iron ma se noi possiamo semplicemente cuocerli dentro la la blast furnace e farlo diventare steel ma perchè devi fare quella cagata lì quando puoi direttamente mettere lì ma infatti noi abbiamo la blast ma che cazzo dico se abbiamo la blast furnace ma vaffanculo ma che viaggio che sei? ma Regas ma basta basta ci vediamo non si sta riempiendo sta soul battle la sun is shining allora buono buu 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 ma che bello cazzo finire tutte le puntate con il sun is shining è bellissimo guarda chi c'è con il sun is shining ti vuole dov'è dov'è? gian sei a portata di mano? no posso esserlo sei a portata di ano? vieni a fare un fuoco d'artificio vieni a fare un fuoco d'artificio cazzo sono in preparato sei sempre in preparato si si Dario Dario cosa sta succedendo? cos'è questa roba che cresce? cos'è? oh cos'è mamma mia Dario un lombrico firmati vabbè firmati dov'è? gian? vabbè ha crashato minecraft dove sei? come hai crashato minecraft? si si è piantato tutto bravo allora dai dai guarda qui il campo di pomodori il campo di strawberry strawberry il campo di grano il campo di canne e il sole e dai gian un orsetto eh porca troia un momento madonna se sei lento non mi ricordo più guarda se sono in tema lo so fare normale non so più fare che cazzo non sei un cazzo gian porto il corco con le scuglie adesso vado a buttarmi nei polli c'è un uovo qua pollo 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 no non ho spazio per le uova vabbè lo faccio blu con la pisa sui orso ma tu devi sempre stare dove sono io è morto tutto è crashato del tutto ok ok ce l'ho ce l'ho no oddio cattivo ecco tac no ma dai ma tu sei adesso ti prendo a badilate voglio vedere guarda che dove lo vado io stupido l'hai rotto tu certo l'ho rotto io io non dici puoi rimetterle almeno invece che non riescono scoppiato un fuoco d'artificio e ci è arrivato malissimo il messicano dai senti facciamo la prossima l'hai già fatto facciamo che è ora di fare basta ciao ciao hai già fatto il fuoco d'artificio si vai giù pronto venga cioè ci vediamo la prossima puntata se no io Gesù nei polli i miei fratelli quindi ciao 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 no